Un giorno Michael vede la paura più chiaramente. Non avevo una forma, era un'ombra molto scura, di essa si vedevano solo gli occhi, erano rossi opachi come il sangue. Un anno di lavoro racchiuso in un'ora e mezzo di spettacolo interamente dedicato alle emozioni. Sul palco del Teatro Tenda, 120 studenti della Scuola Media Cesalpino, indirizzo musicale per lo spettacolo di fine anno, la musica delle emozioni. Ho coinvolto tanti aspetti dell'arte, anche dei disegni bellissimi che hanno fatto da scenografia. La Cesalpino è una scuola che pur rende in alta considerazione i contenuti, è una scuola che educa il bello. Abbiamo preso di riferimento le emozioni primarie, anche sentimenti, perché poi abbiamo parlato anche dell'amore. L'amore è più un sentimento che un'emozione. Da lì hanno lavorato sul respiro, sul movimento, sull'espressione della voce e soprattutto abbiamo creato dei quadri dove loro riconoscevano e manifestavano le emozioni. Questo perché proprio essendo così giovani, e per questo lo spettacolo si chiamava Emoticon, la musica delle emozioni, il linguaggio dei cellulari molto spesso porta a vedere queste piccole faccine, che però non hanno la potenza delle emozioni vere. Uno spettacolo a 360 gradi con coro, attori ed orchestra. Non è il primo concerto che abbiamo fatto, ma è il concerto più bello, anche perché abbiamo messo insieme i ragazzi delle prime con la recitazione, i ragazzi delle seconde con il coro e i ragazzi delle terze che ora sono impegnati nell'esame con l'orchestra. È stato veramente molto bello. Grazie a tutti.